Salve a tutti ragazzi e ben tornati sul mio canale, io sono Antonio e quest'oggi voglio parlare con voi di corpi illuminanti. Infatti nel mio canale solitamente avete trovato video di attuatori, relais, schede riceventi, relais smart per rendere smart le nostre luci, ma bisogna parlare anche del corpo illuminante in sé. Infatti oggi abbiamo a disposizione questi tre faretti della Ecobell, molto interessanti, estremamente potenti, che a nostro piacimento possiamo anche renderli smart con i dispositivi che vi ho spiegato nei vecchi video. Questi faretti hanno delle caratteristiche molto interessanti, infatti sono tutti molto compatti, quindi sono slim, occuperanno poco spazio, l'estetica non è niente male e hanno anche delle prestazioni interessanti, perché se io prendo il primo faretto mi dice che ha 20 watt di consumo, sprigiona 1700 lumen, ideale per 3000 ore di lavoro, alimentabile da 175 volt a 265, quindi non teme grossi sbalzi di tensione e pesa 300 grammi. Dopo vedremo l'unboxing e vedremo nel dettaglio di cosa si tratta. Il secondo faretto che vedremo è molto interessante anch'esso, le stesse fattezze dell'altro, 50 watt, una durata anche questo di 30.000 ore, il P65 come l'altro, quindi può stare tranquillamente in esterna, pesa 0,67 kg, quindi supera il mezzo chilo di peso, 4200 lumen. Invece il terzo faretto, che dire faretto è un po' diminutivo, il terzo farone diciamo, 150 watt, pesa 2,3 kg, quindi un peso notevole, ma perché ha comunque della sostanza dentro. Come dicevo, 150 watt di consumo, 1250 lumen di illuminazione, quindi veramente impressionante e potente, va sicuramente a sostituirci le lampade alogene al 100%, anche perché con un 150 watt di consumo è veramente interessante la situazione. Anche questo è il P65, quindi può stare all'aperto, l'apertura del suo fascio è di 120 gradi. Adesso li andiamo ad unboxare, dopodiché li accenderò per vedere come funzionano, se illumino per davvero oppure no. Vi ricordo che i link sono in descrizione come in ogni video e se vi sarò utile seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati. Ok, iniziamo con il più piccolo e compatto faretto da 20 watt. Vado ad aprire. Nella scatola abbiamo solo la plastichina che ce lo tiene per evitare i graffi. Niente male, ho fatto con un buon materiale, come dicevo prima, slim, quindi molto compatto, dietro le grigliette per dissipare il calore, carino. L'unica pecca che posso trovargli è forse il cavettino un po' corto, ma di solito dietro ai faretti si mettono sempre delle scatoline di derivazione, quindi il problema lo andiamo sempre a risolvere. Secondo faretto da 50 watt, vado ad aprire anche questo, dovrebbe avere le stesse identiche forme del faretto da 20 watt, infatti qua possiamo vedere tutti i led, sempre materiale buono, dietro le grigliette per dissipare, l'etichetta dietro, la staffa regolabile sul retro, anche in questo caso tarabile con questa chiave a brucola, senza problemi possiamo dargli l'orientamento che vogliamo, niente male. E l'ultimo è il faro grosso, un vero e proprio faro, non è già più un faretto questo, quindi lo vado ad aprire, pesa comunque come ho detto prima 2,3 kg quindi ha un peso consistente, i materiali sono comunque buoni, molto slim, cioè devo dire che un faretto di questa potenza comunque non è facile trovarlo con questo spessore, staffa regolabile anche in questo caso e cavettino. Ora ho abbassato tutte le luci, chiuso tutte le tapparelle per vedere effettivamente che illuminazione hanno questi faretti, anche se sono ideali per l'esterno, vi faccio vedere qui al chiuso, comunque la differenza di luce si capisce. Vado ad accendere il primo farettino da 20 watt e comunque si può vedere che tipo di resa alle mie spalle è già buona. Per un piccolo cortile, una luce di una scala, secondo me è l'ideale un farettino piccolo così, molto molto compatto, basta già. Adesso vado con il 50 watt, possiamo vedere come in retro mi è molto più chiaro, il faretto spregiona veramente una buona potenza, questo secondo me è l'ideale comunque per un cortile già di buone dimensioni, è bellissimo quando comunque entriamo magari nel cortile con la macchina, dal telecomando ci accendiamo anche un faretto e lo troviamo già bello illuminato all'inverno che fa buio presto, questi tipi di faretti secondo me sono eccezionali. E ora il faro grosso da 150 watt. Possiamo vedere la potenza che ha, un faro del genere mi illumina comunque anche dietro il faro, io vedo illuminata tutta la stanza, anche perché comunque di luce riflessa ne sprigiona un casino, ha una potenza esagerata per una stanza. Comunque secondo me un faro del genere è l'ideale, oltre che per semplicemente dei cortili grandi potete metterlo su un palo della luce per illuminare una strada, anche per dei capannoni, comunque un paio di fare di questi in qualche capannone, illuminano già a sufficienza secondo me. Bene, dei faretti veramente interessanti, comunque onesti nella descrizione, quello che dichiarano lo vanno a eseguire, infatti luce bianca, senza problemi, consumi comunque ridotti per le prestazioni che hanno, quindi assolutamente promossi. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti, se li avete installati, se vi possono interessare, infatti vi ricordo che in descrizione ci saranno come in ogni video i link di Amazon per andarli ad acquistare appunto. E comunque se volete vedere degli altri video, la cosa migliore è sempre iscriversi al canale e cliccare magari sulla campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che uscirà prossimamente sul canale. Vi ringrazio per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video. iscriviti al canale Grazie a tutti.